Albano Carrisi ha trascorso il Capodanno con un profondo senso di vuoto a causa delle perdite significative che ha subito in passato. La notte di San Silvestro, che segna la transizione tra l'anno vecchio e quello nuovo, gli ha portato alla mente dolorosi ricordi. Uno di questi ricordi riguarda la misteriosa scomparsa della sua figlia Ilenia, che ha perso le tracce a New Orleans durante la notte di San Silvestro del 1993. Questo tragico evento ha segnato profondamente la vita di Albano Carrisi, lasciandolo con domande senza risposta sulla sorte della sua amata figlia. In aggiunta a questo, Albano ha dovuto affrontare il lutto per la perdita di sua madre, donna Iolanda, che è deceduta il 10 dicembre del 2019 all'età di 96 anni. Il fatto che il compleanno di sua madre cadesse proprio il primo gennaio rende la notte di Capodanno ancora più significativa per lui. Albano Carrisi ha condiviso che da quando sua madre è scomparsa, ormai tre anni fa, il Capodanno gli provoca un profondo senso di vuoto. Tuttavia, ha anche rievocato un ricordo dolce e emozionante legato al Capodanno, il suo primo concetto importante a Lucca nel 1967, durante il quale ha dedicato la serata a sua madre augurandole buon compleanno e buon anno. Questa esperienza ha segnato l'inizio della sua carriera musicale e del suo successo. Quest'anno, Albano Carrisi aveva pianificato di esibirsi sul palco di Bari nell'evento Capodanno in musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci. Tuttavia, è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto trascorrere la serata a casa nella sua tenuta pugliese insieme ai suoi figli e a Loredana Lecciso.